Accidenti! Non sono progettati per fare tragitti così lunghi! E se usassimo un ciuschi per spostarci via terra? Un'alternativa ci sarebbe! Il problema è che usarlo su un terreno così accidentato può essere pericoloso! Preno a levitazione magnetica! Meno male che qui intorno non c'è nessuno che ci possa vedere! Certo, che giocare al trennino alla nostra età è umiliante! Quando lo smetterete di brontolare? Tenetevi forte, ragazzi! Certo, ragazzi! Certo, ragazzi! Non è il finale! Battaglio delle montagne non sei! Doraemon, il film! Al cinema!